In questi giorni che precedono il Santo Natale, la Chiesa nelle pagine del Vangelo ci fa riflettere, meditare e ci ripropone quello che è stata la storia dell'Incarnazione, partendo già dall'annuncio dell'Angelo a Zaccaria della nascita di Giovanni Battista. Poi abbiamo l'annuncio dell'Angelo a Maria con la prova della cugina Elisabetta che nonostante l'età avanzata e la sterilità è incinta del sesto mese, poi abbiamo Maria che si mette in viaggio per andare in casa di Elisabetta e qui al solo udire la voce di Maria, il bambino che porta nel grembo su sulta di gioia ed Elisabetta la chiama beata e benedetta fra tutte le donne. Oggi invece il Vangelo ci ripropone la bellissima pagina del Magnificat. La Madonna canta ed esulta l'onnipotenza di Dio nella sua vita e ciò che Dio ha fatto in lei e tutti noi dobbiamo cantare il Magnificat perché tutti noi dobbiamo testimoniare al mondo cosa ha fatto l'incontro del Signore nella nostra vita. Però leggiamolo ancora una volta questo brano perché è bellissimo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dal Vangelo secondo Luca In quel tempo Maria disse «L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'onnipotente e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio. Ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni. Ha innalzato gli umidi. Ha ricolmato di beni gli affamati. Ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele e suo servo. Ricordandosi della sua misericordia. Come aveva detto ai nostri padri per Abramo e la sua discendenza. Per sempre. Parola del Signore. Quanto siamo capaci di riconoscere nella nostra vita l'opera del Signore. Quanto siamo capaci di cantare le meraviglie di Dio nella nostra vita. Io temo che a volte siamo concentrati a lamentarci se qualcosa non va. Temo che siamo più concentrati a domandare piuttosto che a lodare. Allora oggi facciamo un esercizio di lode e di benedizione. Lodiamo e benediciamo il Signore. Mettiamoci al posto di Maria e cantiamo il Magnificat. Buon cammino a tutti.